Ai giornalisti che gli stavano vicino, Paolo Borsellino aveva confidato «Dopo la strage di Capaci mi sembra quasi di essere un morto che cammina, ma questo vi prego di non scriverlo». Borsellino aveva aggiunto di essere molto stanco ed aveva ancora osservato «Tanta gente viene a farmi le condoglianze per la morte terribile di Falcone e di sua moglie e degli agenti della scorta, ma io quasi ricavo la sensazione che questi miei interlocutori vedano in me la prossima vittima». Borsellino mentre parlava forse pensava «il prossimo bersaglio sarò io» e così è stato meno di 60 giorni e l'esplosivo è stato innescato in Via D'Amelio dove viveva la madre di Paolo. In una calda domenica del 1992 un'auto imbottita di esplosivo uccide Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Rimuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, una scena terribile, due cadaveri coperti da lenzuola allineati sul marciapiedi davanti all'ingresso dell'abitazione della signora Borsellino, un terzo, quello del procuratore aggiunto deposto nell'aiola del piano rialzato, accessibile perché l'esplosione ha scardinato anche la recinzione. Tra gli investigatori, magistrati e giornalisti che si aggirano in questo scorcio di Beirut si nota subito la figura di Giuseppe Ayala, altissimo. In tanti, vedendolo, hanno un tuffo al cuore perché la notizia di una strage in Via Autonomia ha fatto pensare proprio a lui come possibile bersaglio. Borsellino è vivo, gli chiedono ai cronisti, voglio saperlo, voglio sperarlo, risponde Ayala. Ma credo proprio di no, lo hanno colpito davanti alla casa di sua madre. Questa nuova strage indica chiaramente, se ve ne fosse stato bisogno, chi siano realmente gli uomini che sono in pericolo di vita a Palermo. Dietro ai cordoni di polizia preme una folla enorme, ma non tutti sono curiosi. 26 anni sono passati dal giorno della strage di Via D'Amelio a Palermo e di quella strage ancora non si conosce tutta la verità.